Siamo qui nell'ambito della collaborazione che la Fondazione Sassartiglia ha con l'Università di Sassari per le visite veterinarie e il controllo dei cavalli partecipanti alla prossima manifestazione di febbraio. È una collaborazione che va avanti da qualche anno, che ogni anno cresce. Da qualche anno gli stessi studenti partecipano alla compilazione attivamente alle visite veterinarie. È un circuito veramente virtuoso perché mette insieme la ASL per i controlli sanitari, i liberi professionisti che collaborano ovviamente con la Fondazione e anche le strutture di formazione come l'Università in un percorso di crescita che ci vede insieme da qualche tempo. La salute è fondamentale ed è fondamentale la tutela del benessere del cavallo sportivo in un momento in cui l'occhio mediatico e comunque l'attenzione mediatica per la tutela e il benessere del cavallo in tutte le manifestazioni è fondamentale, ma proprio a salvaguardia della stessa manifestazione. Quindi da tempo la Fondazione Sartiglia ha attivato proprio un circuito virtuoso che vede proprio una preparazione costante e un'attenzione costante che i veterinari hanno nei confronti dei cavalli che si preparano alla manifestazione per tempo. Ovviamente Oristano vive questo momento con grande partecipazione e devo dire che tutti gli enti preposti hanno sposato in pieno questa filosofia della Fondazione che tutela moltissimo l'immagine stessa della manifestazione. Noi siamo contentissimi di questa collaborazione e anche l'anno scorso la Fondazione aveva organizzato un convegno dove abbiamo presentato i risultati delle ricerche condotte negli anni precedenti ma che sono stati presentati non solo ovviamente nel convegno di Oristano ma sono stati presentati anche ai convegni internazionali dai ricercatori del Dipartimento e questo è stato un ulteriore motivo di vanto e di orgoglio perché la Sartiglia è stata presentata a congressi internazionali e quindi ha avuto anche una visibilità non solo dal punto di vista diciamo prettamente veterinario e quindi la salute e il benessere del cavallo ma anche dal punto di vista di immagine della città di Oristano e di tutta la Sardegna.